Aveva preso di mira un negozio di articoli musicali a Catanzaro, un supermercato a Selliamarina, un fioraio a Sersale ed una farmacia nel centro di Crotone, ma dopo un'intensa attività investigativa è stato individuato ed arrestato. Si tratta del 52enne Alberto Pignanelli, nato a Cutro nel Crotonese. La polizia di Catanzaro, attraverso la squadra mobile del capoluogo e quella pitagorica, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare su richiesta della DDA guidata dal procuratore Nicola Gratteri. Il Pignanelli è ritenuto responsabile di numerosi episodi di estorsione e tentata estorsione, aggravati dalla metodologia mafiosa per avere preteso e talvolta ottenuto somme di denaro da alcuni esercenti commerciali, quale contributo per i detenuti di Cutro, notoriamente sede di cosche malavitose.